Dicevano che stavi male, io ti ho visto sorridere e almeno quello mi è sembrato... No, io, io, Maria, ti voglio dire questo, voglio, voglio andare via. Perché, perché, perché io, io, Maria, sono venuto per Gemma all'inizio, sono ritornato per Gemma a settembre e volevo che lei me lo dicesse di persona chiaro e tutto. Io avevo altri numeri di telefono che le, quelli della redazione mi avevano detto Marco, però per me Gemma rimarrà sempre Gemma, sempre nel mio cuore. E io lascio il, ho detto, no Gemma, no, no, Gemma, Gemma, quando sono entrato, te mi hai detto, te mi hai detto Gemma, quando sono entrato, mi avevi detto, guarderò, io nel mio piccolo ho fatto passi da giganti, poi la gente mi può le criticare, però io non mi sembra giusto per la mia figura, perché preferisco... Signora, per favore, sto parlando, non mi sembra giusto... Sto parlando. Non mi sembra giusto di rimanere. Grazie. Grazie a tutti